È un forte segnale di sostegno alle attività commerciali che dall'inizio dell'anno stanno affrontando grosse difficoltà a causa della pandemia. Per agevolare gli acquisti e il flusso di clientele in concomitanza con il periodo natalizio, il Comune di Fano ha pensato di rendere gratuiti 529 parcheggi blu del centro storico dall'8 al 26 dicembre. Stiamo attraversando un momento difficile e quindi abbiamo pensato di dare questa agevolazione per favorire la presenza e la circolazione delle persone in quel periodo, che è un periodo dell'anno più significativo per le attività commerciali. Anche se siamo consapevoli che non sempre la gratuità rende maggiore fluidità, alcune volte fa l'effetto contrario. Però vogliamo sperimentarlo perché è anche un messaggio positivo, diventa anche una comunicazione favorevole e quindi abbiamo deciso di fare questa scelta che per noi è significativa perché significa avere minore entrate non banali. Il mancato incasso per Aset S.p.A. supera i 30.000 euro ma l'amministrazione vuole tendere una mano agli esercenti e lancia un appello ai cittadini affinché facciano acquisti nei negozi della città per tutelare il commercio locale e aiutare gli imprenditori del territorio. Invece per le iniziative legate alle festività si viaggia ancora nell'incertezza. Tutto sarà legato all'andamento dei contagi e alle restrizioni imposte dal governo. Intanto il comune ha previsto un sostegno economico che consiste nel ristoro del pagamento della TOSAP versata per i mesi di marzo e aprile dalle attività commerciali che sono rimaste inattive. Si stanno valutando anche degli aiuti per quelle categorie che hanno subito cali significativi di fatturato. Ci sono alcune tipologie che hanno avuto aiuti veri da più parti. Ci sono altre che magari non hanno avuto l'obbligo di chiudere però hanno avuto riduzioni dell'80-90%. Faccio un esempio per farci comprare le agenzie viaggio con nostre risorse perché vorrei sottolineare un aspetto. Noi vediamo anche promozioni che alcune volte sono anche un po' esagerate di aiuti che alcune amministrazioni danno perché hanno avuto a fondo perduto delle risorse. Ovviamente sono arrivate perché hanno avuto numeri significativi di decessi. Noi lo stesso è stato un territorio fortemente colpito ma non a quei livelli. Quindi noi dobbiamo farci carico con le nostre risorse. Sì stiamo pensando alle forme di ristoro, a dei bandi. Adesso qua proprio gli uffici e l'assessore Cucchiarini stanno lavorando in questi termini. Per usufruire di tali benefici le attività interessate potranno compilare i moduli disponibili sul sito istituzionale del Comune di Fano.